... Gli altri galoppano, galoppano, questa sera va di lusso, va di lusso questa sera. Vediamo, mentre uno è ancora lì che decide cosa fare, perché questo fanno, vediamo se gli altri arriveranno. E qua c'è da ridere, non vedo ancora nessuno, magari sono fermati al bar, perché chi lo sa? Vedo qualcuno che arriva, arrivano frontierellato, carinamente, con tre concorrenti, vedo una maglia piatta, vedo il muro, il muro, poi c'è, vediamo chi è il secondo concorrente, si è fermato l'asilo, si è fermato l'asilo, si è fermato l'asilo, il muro galoppa, ecco che è risalito, ed ecco la montagna che sono passato. Dai, fermati, fermati! Ma che si è fermato? Ma attenzione, al signore la montagna, si è bloccato l'asilo, non lo riprende, i due si andano a piacchierare a ringraziare la piaccia. Cosa ne pensi in questo bagno? Non lo so, però penso che stanno piacchierando, sono messi lì a piacchierare questa sera, non so se finisco la gara. Ma che domani? Capito? Capito? E quando lei mi sto aspettando, con calma, perché è pura, mi sa, che è pura, mi sa, che è pura, mi sa, che è pura. La mano? No, 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 no. Ecco che si è formato un gruppo adesso, no. Capito il pari prende, arriva, l'altra cosa che li passano. Capito, ma kidgiando il gruppo. E' arrivato, sta tirando il gruppo, e tutti vanno dietro, attenzione, San Giovanni, magari quest'ultimo parte, e dentro questo passivo, basta, 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 basta. E' arrivato, è arrivato, è arrivato, sta dietro, forse, no, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.